Sono Daniele Gioffreda, direttore commerciale e marketing nonché socio del gruppo MEF, siamo la seconda edizione della mostra elettrotecnica Firenze che si svolge all'interno della stazione Leopolda e coinvolge tutti i maggiori produttori di materiale elettro e di illuminazione nazionali ed internazionali. Questa è una fiera business come io l'ho definita sin dal primo giorno e all'interno di questa manifestazione si fa del business perché è una fiera commerciale, è una fiera di relazione perché chiaramente è un momento di incontro molto importante tra tutti gli operatori del settore, è una fiera culturale perché comunque si fanno dei convegni nei cinque giorni della durata di questa manifestazione, convegni per architetti, progettisti, ingegneri, periti. È una fiera appunto dove si fa della cultura e dove quest'anno per la volta vengano coinvolti anche i privati. Infatti il sabato sarà dedicato interamente ai privati, privati intesi come famiglie e soprattutto scuole. Fare cultura su un tema di grande attualità oggi che è il risparmio energetico, il green e la sostenibilità. Quindi una fiera con tanti elementi ma dove l'obiettivo principale è appunto quello di fare business e di dare un impulso positivo a un mercato che in questo momento sta soffrendo. Questo è il futuro ma questo è anche credo il presente.